ciao a tutti brevissimo video per mostrarvi quello che acquistato e quello che mi è stato regalato in questi giorni allora come vedete la prima cosa che vi mostro è la macchina per la pasta che cercava da tantissimo tempo e finalmente l'ho trovata l'ho comprata da epi casa è una rete praticamente di franchising che è presente qui in campania non so se nelle altre regioni esiste e l'ho pagata 11 euro e 99 che devo dire il prezzo è ottimo perché tutte le macchine per la pasta che ho visto in giro costavano dai 20 euro in su ho visto macchine per la pasta anche di 30 40 euro quindi l'ho presa al volo e passo subito a mostrarvi la macchina più da vicino allora all'interno trovate il libretto di istruzioni poi c'è questa staffa per mantenere la macchina della pasta fissa ad un tavolo poi c'è praticamente la piastra per fare vari tipi di pasta questo è per fare le tagliatelle le tagliatelle di fimo come ha detto qualcuno ogni riferimento è puramente casuale vero luigi le tagliatelle e qui per fare pasta più sottile come penso linguine spaghetti più che linguine questa qui devo dire che anche questa seconda piastra secondo me mi sarà molto utile e poi praticamente questa è la macchinetta della pasta qui come vedete c'è la manopola che si tira per regolare lo spessore dei rulli all'interno e quindi si regola da 1 a 9 non so se si vedono i numeri ecco qui sono sulla sulla manopola e poi all'interno c'è praticamente la manopola per per girare che si inserisce qui e serve appunto per per girare allora questa macchinetta c'è scritto vicino allo scatolo che ha le piastre all'interno in acciaio inox quindi devo dire che è ottimo e appunto ha il gancio per il fissaggio della macchina che si può anche quindi attaccare ad un tavolo ora ve la faccio rivedere vi faccio rivedere lo scatolo ecco qua qui come vedete c'è scritto ideale per fettuccine spaghetti tagliatelle sotto c'è scritto in acciaio inox e dall'altro lato mostra appunto il gancio per fissare la macchina al tavolo poi un'altra cosa che vi anticipo ma che recensirò poi con calma è la videocamera da cui sto registrando che è appunto questa vi anticipo soltanto che è una samsung hmx q20 questa videocamera mi è stata regalata da mio padre per il mio compleanno e niente è una videocamera full hd però comunque me ne parlerò in un prossimo video in maniera più dettagliata posso dirvi però che l'ho comprata da expert al prezzo di 169 euro e 90 in offerta bene per oggi è tutto vi saluto e vi mando un bacio al prossimo video ciao ciao